Buongiorno a tutti, questa canzone di questo lunedì l'ho intitolata L'autarchia. Bene, allora, fa presto a poco così, la canto con una leggera inflessione romanesca. Vai! C'è da raccogliere le patate, ma voi che fate? Ma voi non stisate? Venite qua! Da Ripoli e Ergallinaro, ma voi vedate, vanni sconnete? Venite qua! Regreggi, soddaccuti, fate rivaghi, poi venannate? Venite qua! Non mi ha insegnato nulla vostra nonna, non mi ha insegnato nulla vostro padre Non mi ha insegnato nulla vostra zia con l'autarchia da ricercar Io si è ben permesso, in questo tempo avrei da farmi un C-Rombard Invece io avrei impegni culturali da passare con amici presso musei nazionali Scusate se evidenzio che io, a 40 anni, sono ancora iscritto all'università Non guardate mai per favore, sapete tutti che ho le mani da pianista e non certo da raccoglitore Ed io allora, anche se è maschietto, ho messo lo spalto sulle ucchie che queste mi si potrebbero rovinar Uh, uh, uh! Ah, io ho un viaggio in corto che a farlo saltare non saremmo certo del notante da ghiacciare Ah, basta! Basta, per favore, basta! Siete tutti bravi a qualifichi con l'arberino e l'altri Basta! Come vede, andate a lavorare, capito? E non pensare solo al vantaggio vostro! Uh, 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 uh! Baracca vengo a burattini chiusi A chi invita li vorrà compra mi godo io la vita mia che mi appartiene da soddisfar che mi appartiene da mori ammazzar avrei voluto dare questo di piccolo ma mi sembrava troppo forte ma volete lavorare